Buonasera a tutti, Donato ha già fatto il suo ingresso tra di voi, ma ci tenevo a ringraziare il circolo dei lettori per questo invito, Longanesi per avermi voluto su questo palco e Donato Carresi per essere qui accanto a me. Grazie a te. Ma che meraviglia e grazie a voi di essere qui stasera in questa fredda serata, io e i miei appunti perché ormai sono diventata una vecchia signora che dimentica dei pezzi di cose, però ciao Donato, tu hai chiesto a loro come stanno e io chiedo a te come stai. Allora, sono abbastanza distrutto perché ho fatto questo giro del Piemonte, da stamattina alle nove sono in giro per il Piemonte, non so neanche dove stiamo adesso, dove mi trovo? Siamo in un anfratto, dicono dalla prima capitale d'Italia. Dalla prima capitale d'Italia, no, è bello tornare qui, è bello potervi guardare negli occhi, ancora non in faccia però negli occhi sì, è bello essere tornati dopo questa assenza. Francamente, devo dire che questo tour di promozione del libro mi sta rimettendo al mondo. È il tuo primo dopo il lockdown che esce questo? È il mio primo dopo il lockdown, quando è uscito il libro dell'anno scorso ho fatto soltanto dei firmacopie senza pubblico poi tra l'altro ed è stato molto molto triste, devo dire la verità. Quindi ti manca il tuo pubblico? No, no, scherzo, non mi manca tantissimo, mi manca proprio l'approccio fisico, allora io sono meridionale per cui ho sempre bisogno di un approccio fisico con i lettori, di toccare i lettori ed essere toccati, adesso non pensate male, però c'è sempre stata questa cosa, no? No, è perché succede che quando poi ci facciamo le foto, i selfie, che sono sempre delle cose strane, uno non sa mai dove mettere le mani nei selfie, le cose, io quando sono stato ad Abu Dhabi per esempio mi si avvicinavano le elettrici e sapevo che non dovevo toccarle. Ok, ti avevano dato un brief, un mansionario, fino a lì si arriva, oltre no. È stato un ottimo allenamento per quello che sta succedendo in questo periodo storico, insomma. Bene, ti sono mancati i tuoi lettori, sei tornato, sei tornato in libreria, sei tornato qui con noi, sei tornato con un romanzo, tra l'altro io ci tengo a fare vedere quanto è bella la copertina di questo romanzo, perché appunto io mi chiamo Petunio Hollister, in realtà al secolo sono Stefania Soma, ho un format in Instagram che parla di libri da tanti anni e le copertine belle diciamo che mi attraggono. E l'ho fatta io questa, no scherzo. L'ha fatta lui, assolutamente. Ovviamente non l'ho fatta io. Diciamo che chi ha fatto questa copertina però ci ha visto lungo, perché poi io ho visto questa copertina, sono rimasta folgorata, già conoscevo ovviamente Donato, io sono una sua piccola fan, glielo ho confessato prima a cena, ma vabbè insomma a un certo punto bisognerà pur confessare delle cose dopo questo lungo lockdown che abbiamo fatto, questa deprivazione. Però ho visto questa copertina, sono rimasta folgorata, poi ho letto il romanzo e ho detto ok, bene, la folgorazione della copertina era nulla rispetto a quello che è la folgorazione dal romanzo. Abbiamo un romanzo gemello, non è un sequel. Sì, sì, io non scrivo sequel. No. Non sequel. No, mi dà proprio fastidio la parola sequel. Assolutamente. È un romanzo gemello, infatti io ho fatto la prova provata. La Casa dei Ricordi viene dopo, mettiamola così, in ordine cronologico, un altro romanzo che si chiamava La Casa delle Voci, che è uscito nel 2019, che io avevo già letto. Ci sono delle ricorrenze in questi due libri, perché ci sono delle ricorrenze, ci sono dei personaggi, ma ho fatto la prova, ossia dopo aver finito La Casa Senza Ricordi, ho ripreso in mano La Casa delle Voci e vi assicuro che i due libri possono essere letti serenamente senza l'uno senza l'altro. Non c'è nessun tipo di interazione tra i due, se non alcuni personaggi, la città di Firenze, alcune cose. Ma è impressionante perché io ho detto, ma da qualche parte lo coglierò in fallo. no, assolutamente donato, ha fatto appunto due romanzi gemelli e si è confermato uno dei miei autori italiani preferiti dopo non essere riuscita a coglierlo in fallo su questa cosa, ma lo so che qui eravate certi di tutto questo. Allora, La Casa Senza Ricordi è un romanzo che si apre il 23 febbraio del 2021, quindi praticamente qualche mese fa. Un'anziana allevatrice di cavalli della zona del Mugello da settimane si sveglia tutte le mattine alle 3.47 precise. mi sembrerà una cosa impossibile, io per anni ho sofferto di insonnia e mi svegliavo a un'ora costante, che non erano le 3.47 ma erano le 3.10. Non dire assolutamente nulla perché non voglio sapere niente di quello che può implicare queste cose. Tutte, in questo momento che è ancora notte fonda ma si sta apprezzando al giorno, ha due cani e decide per settimane di caricarli sulla sua lada blu immatricolata nel 1977, si infila la sua incerata, si mette un vecchio borsalino in testa, un mezzo toscano nel taschino, prende i cani, li carica in macchina e li porta in un posto che si chiama la valle dell'inferno. E lei, voi penserete, questa donna sono anni che indipendentemente dalle 3.47 del mattino da questi risbogli portava i suoi cani lì. E invece scopriremo poi che non è così, che a un certo punto ha iniziato a fare questa cosa. Seconda, che cosa succede in una di queste notti? In una di queste notti i cani sono particolarmente agitati e questa donna a un certo punto si rende conto che i cani sono molto agitati perché hanno puntato una preda, ma non si capisce se questi cani hanno puntato una preda oppure se c'è qualcosa che li agita a loro volta, li spaventa ogni volta e questa donna trova un bambino, un bambino molto biondo, molto bianco, molto silenzioso, non è malnutrito, non è malvestito, non è un bambino che è uscito dalla boscaglia in quel momento, non ha graffie e ha gli occhi sbarrati, non riesce a sbattere gli occhi. Lei si rende conto che è come se avessero avanti una piccola bambola di cera sotto la luce della luna accanto a cui questi cani continuavano ad abbaiare. Calma i cani, carica il bambino sulla macchina perché non è normale trovare quasi alle 5 del mattino un bambino nel bosco da solo, lo porta a casa su, gli dà una ciotola di latte, del pane e inizia a cercare di parlare con lui. Questo bambino non parla, alla fine questa donna ha un'intuizione, si ricorda di un caso successo qualche mese prima e come tutte le vecchie buone signore di campagna in un angolo della sua casa ha una pila di giornali che non si sa mai a che cosa possono servire per incartare le uova, per fare dei pacchetti per lavare i vetri anche, mi è venuta in mente questa cosa ed effettivamente si rende conto che questo bambino è stato protagonista di un caso di cronaca otto mesi prima ed è stato protagonista insieme a Mira, sua madre, di una sparizione otto mesi prima. Questo bambino che si chiama Nicolin, detto Nico, e la sua mamma che si chiama Mira sono entrambi di origine albanese, rimangono con una ruota bloccata sul ciglio della strada, su questa panda molto vecchia, molto piena di oggetti perché questa donna e questo bambino vivevano in macchina, avevano una situazione molto difficile alle spalle, trovano questa panda nei boschi del Mugello con una portiera spalancata, una gomma a terra e da quel momento in poi della donna e del bambino scompare in qualsiasi traccia. Questo è l'incipit, non ho spoilerato niente perché è tutto scritto in bandella, a questo punto io mi affido a Donato perché io seguirò lui in quello che vorrà rivelare d'ora in poi, ma questo è l'inizio di tutto questo. Ma cosa succede a questo punto? Ovviamente arrivano le forze dell'ordine, ovviamente il bambino è un minore per cui viene interpellato il tribunale dei minori di Firenze e a un certo punto io vi leggerò un brano per capire che cosa succede da questo momento in poi. Il bambino non parla, spiegò il magistrato mettendosi a sedere dietro un'antica scrivania di noce. Non spiccica una parola, anche se reagisce quando lo si chiama per nome. Non aveva documenti con sé, ma sulla sua identità non ci sono dubbi, visto che corrisponde alla descrizione delle due assistenti sociali che vigilavano su madre e figlio prima che scomparissero. Ma se vogliamo capirci qualcosa, è a lui che dobbiamo chiederlo, perché sono troppi gli interrogativi ancora in sospeso. Poi elencò, cos'è successo esattamente quel giorno di giugno? Dove è finita la madre? E soprattutto, dove è stato lui per tutto questo tempo? E io dovrei sbloccarlo? A questo punto rientra un personaggio che se avete letto la casa delle voci già conoscete. chi parla è Anita Baldi, anche lei l'avete già conosciuta, è un magistrato, appunto il capo della magistratura dei minori di Firenze, se non ricordo male, qualcosa del genere non ricordo, ma la persona che parla è Pietro Gerber ed è uno psicologo infantile, ma è uno psicologo infantile un po' particolare. A questo punto io guardo Donato e gli faccio la domanda che non gli ho potuto fare prima cena. Io per il nome Gerber, quando l'ho letto la prima volta, ho avuto una reminiscenza di infanzia. Perché Gerber, io sono nata a metà degli anni settanta, Gerber mi ricorda qualcosa che ha a che fare con i neonati, che è qualcosa che ha a che fare con qualcosa che mi veniva dato da mangiare. Io non so se sono stata ipnotizzata da qualcuno che ha portato fuori da me questo ricordo e quindi io sono completamente matta e donato e non vorrà mai più vedermi in vita sua. O se c'è un richiamo a qualcosa, perché io ricordo questa cosa. Ma ti lascio a questo punto con Pietro Gerber e con il mio dubbio, con questa mia domanda da fan. No, è vero, però non c'entra niente con quella tua reminiscenza. Però è vero, stasera me l'hai fatto ricordare questa cosa. Gerber erano gli alimenti per i bambini e c'era anche un lassativo Gerber. Questo non lo so, però io quando ho letto questo nome, la prima cosa che mi è venuta in mente sono stati i neonati. Quindi tu non l'hai fatto appositamente, ma vedi, puoi giocartela. No, però ti dico, io quando scelgo i nomi dei romanzi mi dicono sempre, ma perché c'hai sempre i nomi strani, sono nomi molto particolari, molto ricercati. Non troverete mai un Mario Rossi, insomma, in un mio romanzo. Perché tra l'altro devono essere nomi che abbiano un suono anche per i lettori stranieri all'estero e soprattutto bisogna cercare di evitare, perché nelle traduzioni, vedete, tutte le parole vengono cambiate, salvo ovviamente i nomi dei luoghi e i nomi dei personaggi. E può capitare che un personaggio abbia un nome che all'estero suona come una parolaccia. Per esempio, in un mio romanzo famoso ho dovuto cambiare il nome di un poliziotto perché in vietnamita veniva fuori una volgarità blasfema, una roba veramente assurda. Nella versione vietnamita ha un nome totalmente diverso. Però no, effettivamente pure io, probabilmente sono stato ipnotizzato perché, vedi, questo nome, Pietro Gerber, è nato quasi per caso. Molto bello, tra l'altro. Ma mi piaceva il suono perché poi, allora, Pietro è un nome antico e a me piacciono i nomi antichi, i nomi italiani che abbiano una storia dietro. Insomma, è Gerber perché se togli una vocale al cognome italiano diventa già internazionale. Sì, fa un po' nord, già nord Italia, nord Europa, nord... Donato Carris. Carris, effettivamente ci sta. Donat Carris. Donat Carris. Io già mi sono autoribattezzata Petunio Hollister, quindi possiamo andare sicuro sull'internazionale. C'è una cosa che facevo con Giorgio Faletti, per esempio. Il grande Giorgio, gli mando un bacio ovunque, lui sia, e dicevamo sempre, vedi questi scrittori di thriller internazionali, Don Brown, Michael Connolly, Jeffrey Diver, Giorgio Faletti, Donato Carris. Cioè, è moscia la cosa, capito? Non è moscia. No, dovevamo probabilmente chiamarci in maniera diversa. Tra l'altro sul suggeritore, sul primo libro, la prima edizione suggeritore, non c'è a Donato Carrisi, c'era di punto Carrisi, quasi a... Memore di un altro autore che era Alan D'Altieri, che era Sergio Altieri. Mitico, Sergio, anche lui, con Giorgio Faletti. Anche lui. Senti, ma torniamo a Pietro Gerbera e andiamo oltre le mie reminiscenze da ipnotizzata, proprio da venire da qualcuno. Questo non fa soltanto lo psicologo infantile, questo fa anche l'addormentatore di bambini, che è detto così. E come sta Pietro Gerbera, che fa? Come si approccia tutto quello che gli sta succedendo intorno? E a questo caso in particolare? Cosa succede? Cosa fa succedere quest'uomo? Perché viene chiamato? Lui è un personaggio tormentato. A me non piacciono i personaggi lisci, no? Quelli che hanno una vita semplice, quelli che poi alla fine risolvono tutto, che riescono anche ad uscire indenni dalla storia che ho raccontato. Io cerco sempre di sporcare i personaggi e cerco sempre di tormentarli in qualche modo. E Pietro Gerber è un personaggio tormentato. Tra l'altro lui fa l'ipnotista e l'ipnotista si muove in strani territori. Era un po' di tempo, era un po' di anni prima della Casa delle Voci che cercavo di raccontare l'ipnosi. Mi affascinava molto questo mondo. Io l'ho raccontato più volte l'episodio di quando mi sono sottoposto ad ipnosi. Tra l'altro è un episodio che faccio raccontare anche ad Anna Hall nel primo romanzo, nella Casa delle Voci. Cioè andai da questa straordinaria ipnotista che è diventata la mia consulente nel corso degli anni. La cito soltanto quelli iniziali nella notta finale del libro. Nel suo studio, in un pomeriggio di inizio estate a Milano, ero disteso su questo bellissimo divanetto di pelle fuori. C'era questa grandissima vetrata che affacciava su un piccolo parco di Milano una natura regogliosa, il sole estivo, le tre del pomeriggio e questa mi parlava e cercava di condurmi nella trans. Io ero lì ad occhi chiusi che pensavo ma quando è che finirà sto strazio? Che palle! Ed ero lì e dovevo grattarmi il naso. Non avevo il coraggio di farlo perché non volevo deluderla perché quella sarebbe stata la prova. Che erano fattute fregnacce. Fattute fregnacce, io sono pienamente sveglio. E poi dopo mezz'ora questa finalmente mi ha risvegliato e io ero lì, ho aperto gli occhi, sono rimasto sorpreso perché il sole fuori dalla finestra era scomparso, la stanza era buia, erano trascorse più di tre ore, il sole era tramontato e la cosa sorprendente era stata proprio questa. Cioè io avevo perso il senso del tempo, della realtà che mi circondava e avevo fatto questo viaggio incredibile in me stesso. Quindi ho scoperto che l'ipnosi è un viaggio in se stessi, non fuori da sé, si diventa più padroni di sé, non viceversa, non si cede il controllo a qualcun altro. E proprio in questa acquisizione di consapevolezza, perdendo la coscienza invece di tutto ciò che accade intorno a noi, che potevo innestare il racconto. Però che faccio con quest'ipnotista? Gli faccio ipnotizzare gli adulti? No, sugli adulti questa cosa non funziona, narrativamente non sarebbe stata affascinante. Le menti più interessanti da esplorare, lo dicono tutti, gli psicologi e soprattutto gli ipnotisti, sono quelli dei bambini, perché i bambini sono ancora dei labirinti, e come sapete a me i labirinti piacciono tantissimo. Nel caso della Casa delle Voci c'è uno spunto interessante che mi era venuto durante una scena. Eravamo a casa di amici, c'era questa lunga tavolata, non me lo scorderò mai. Io ero seduto da una parte della tavolata e improvvisamente quelli che erano intorno a me, io e quelli che erano intorno a me, ci siamo accorti che dall'altro lato della tavolata tutti facevano silenzio e ascoltavano il racconto di una nostra vecchia amica che raccontava della morte della nonna. Un episodio di quando lei era bambina, la nonna era morta, e lei la notte in cui la nonna era morta aveva avvertito una presenza, qualcuno che si sedeva in punta al suo letto e aveva riconosciuto in una sorta di ombra la figura della nonna che era passata da lì per salutarla, probabilmente prima di andare da un'altra parte. E tutti improvvisamente intorno a quel tavolo ci siamo ricordati di un episodio simile quasi ai limiti del paranormale vissuto nell'infanzia. Anch'io per esempio avevo vissuto uno simile, una telefonata nel corso della notte, avevo alzato il telefono pensando a un molestatore, invece ho sentito semplicemente qualcuno che diceva una voce maschile che diceva ciao, e la mattina dopo il mio papà mi ha detto guarda che è morto quel nostro amico di famiglia all'improvviso. Lì mi sono ricordato, mi era parso di riconoscere quella voce, suggestione. Ora, tutti possedevamo un episodio simile all'infanzia, ma avevamo il pudore di raccontarlo e poi l'avevamo giustificato dicendo sì vabbè ma è la nostra fantasia di bambini. e lì ho pensato probabilmente può anche darsi che i bambini abbiano una sorta di cordone umbilicale che ancora li lega al mondo scuro da cui tutti proveniamo e a cui tutti siamo destinati dopo la morte. Quindi perché non raccontare una storia di bambini e di fantasmi e applicandoci anche l'ipnosi? E lì è nata la casa delle voci, da questo insieme di cose, perché poi un libro non nasce mai da un'unica idea, non c'è mai un'unica idea volgorante, e tu dici devo raccontare questa storia. No, sono più idee che si combinano tra di loro e c'è bisogno poi tra l'altro anche di un'emozione da raccontare perché non basta l'idea in sé, hai la necessità di sovrapporre qualcosa. Faccio un esempio, quando ho scritto l'ipotesi del male lì c'era un'idea folgorante gli scomparsi che tornano dopo molti anni e uccidono, persone scomparse che tornano per uccidere. Ma ammazza che idea! Sì, ma che cosa racconto? Poi che emozione voglio suscitare nel lettore? Non deve essere un'emozione artificiale, io tendo già a prendere qualcosa che è presente nel vostro cuore, infilo la mano nel vostro cuore, la tiro fuori e tiro fuori un'emozione che magari tutti abbiamo sperimentato nel corso dell'infanzia perché è lì che si imparano le paure. E avevo la difficoltà di raccontare un'emozione, fin quando non mi sono imbattuto in quel periodo in una frase che era scritta su una maglietta indossata da una bambina a Londra che suonava più o meno così «Non sai cos'è la paura finché non senti un colpo di tosse provenire da sotto il tuo letto». Il colpo di tosse non è il respiro, capito? Non ho sentito un respiro. il respiro, probabilmente non lo sono pure immaginato. No, colpo di tosse vuol dire che c'è qualcuno da sotto. C'è qualcuno da sotto. Che emozione è? È la paura del buio. Vedete, i genitori commettono un errore, i nostri anche in particolare, un errore madornale. Pensano che la cameretta sia il luogo più sicuro in cui ricoverare i figli. di giorno, ma di notte. Le ombre dei giocattoli diventano minacciose e c'è sempre un armadio che sussurra. E io so che stasera quando tornerete a casa sarete lì in camera da letto e avrete la tentazione di dire, bastardo di Carrisi. E alzerete un lembo del vostro piumone con un occhietto che andrà sotto il letto. E beh, sai, questa cosa poi è ritornata nei vari romanzi e in questo in particolare, che è il gemello della Casa delle Voci, la Casa Senza Ricordi, c'è una storia simile. Non è una storia di bambini, di fantasmi, ma è una storia di bambini e mostri dell'infanzia perché c'è un'altra cosa che abbiamo in comune. Tutti abbiamo avuto un mostro nell'infanzia. Un mostro evocato dai nostri genitori quando facevamo i capricci, no? Alcuni hanno addirittura un nome, poteva essere il Baobau, l'uomo nero senza accezioni razziali, ovviamente, il lupo, no? Il vostro aveva un nome e sono sicuro che i vostri genitori si servivano biecamente del mostro di turno per spaventarvi, lo so. Il mio si chiamava Il Lampadina perché era un signore molto tenebroso che si aggirava e mi diceva ti diamo la lampadina che era una sorta di... immaginatevi in Pinocchio, come diavolo si chiama, l'irretitore di bambini, quello che li porta nel paese dei balocchi che in realtà poi li fa... non mi ricordo... Mangiafuoco. Era esteticamente come Mangiafuoco. Ma Mangiafuoco non li portava nel paese dei balocchi? No, infatti, scusate, io ho un pessimo rapporto con Pinocchio. Stai confondendo con il cocchiere. Mi sto sconfondendo, però aveva quell'estetica. Il Lampadina. Il Lampadina è terrificante. Abbastanza. Penso che adesso spaventano i bambini dicendo guarda che chiamo Donato Carresi, quindi... Pensa. Alcuni lo fanno. No, però è questa la cosa che ci accomuna a tutti, no? Il mostro dell'infanzia. Un po' di settimane prima che cominciassi a scrivere il libro, mio figlio Antonio una notte è uscito dalla sua cameretta, è venuto in camera, mi ha detto papà, c'è qualcuno che bussa nell'armadio. Ora io... Adesso tu fai paura agli altri, ma tu... No, ma devo dire, un padre normale a quel punto si sarebbe alzato, si sarebbe andato nella cameretta, avrebbe aperto l'armadio per dimostrare al bambino. Vedi che non c'è niente. Io ho aperto la coperta e ho detto dormi qui. Dormi qui, stai stanotte e dormi qui. Sarebbe stato il sogno della mia infanzia questo, effettivamente, ma non è andata così. Tra l'altro tu nei due titoli metti sempre il termine casa, anche perché diciamo che la casa è un luogo come la cameretta, un po' che sembra il luogo più sicuro, ma anche il luogo in cui può succedere di tutto in realtà. Però mi sembra che casa abbia due valenze diverse nella casa delle voci e la casa senza ricordi. Mentre nella casa delle voci casa e casa sono uno o più case, però sono luoghi in qualche modo in cui succedono delle cose. Invece nella casa senza ricordi, cos'è questa casa senza ricordi? Ci sono anche delle stanze, tu che ogni tanto citi in questi romanzi, che sono a volte delle stanze reali che rappresentano altre cose. Addentriamoci un po' nella struttura. Beh, è una casa interiore. È la casa che è in ognuno di noi. Perché la casa senza ricordi? Perché in ognuno di noi c'è un luogo vuoto. C'è un luogo vuoto dentro di noi che non riempiremo mai. E se per caso ci finiamo dentro, è difficile poi uscirne fuori. È difficilissimo. E lo sanno soprattutto gli psicologi, anche gli psichiatri, gli psicologi infantili in particolare, perché capita che i bambini finiscano nella casa senza ricordi. E quando un bambino si perde nella casa senza ricordi, è difficile andarlo a riprendere. È difficile trovarlo anche. E io volevo raccontare la storia di un bambino perso in sé stesso. Di un bambino che il nostro ipnotista Pietro Gerber è costretto a cercare, lasciandosi coinvolgere, addentrandosi sempre di più, sempre più profondamente nel labirinto, nel labirinto celato della sua mente. E questo luogo era molto affascinante a tenerlo sospeso nel racconto, a tenere sospeso anche il lettore. E questo è un libro di sospensioni, è un romanzo di sospensioni. Ci sono alcuni lettori, quelli che mi conoscono da tanto tempo, che sanno benissimo come io costruisco le storie. Per esempio, ci deve essere una parte della storia che deve rimanere lì, sospesa, quasi senza risposta. In realtà, le risposte ci sono sempre e ci sono tutte. Tutte, sempre. Alcune è difficile accettarle. Alcune è molto difficile accettarle. E poi, io sono un amante delle storie che hanno di solito due finali, uno conclusivo e uno aperto. Perché quello aperto? Non perché io immagini già il seguito delle storie che sto scrivendo. Anche perché non sarebbe onesto, insomma, io non costruisco mai la storia pensando al capitolo successivo. Io penso prima di tutto alla storia, poi se ho dei personaggi per raccontarle, quei personaggi sono già pronti, li tiro fuori e li adego al racconto. Ma perché secondo me la storia deve continuare nella testa del lettore. Non lo spegni mai tu il lettore. Ma no, ma perché, scusami, i libri che finiscono all'ultima pagina sono noiosi, sono noiosi perché poi li mettiamo lì e i libri diventano dei soprammobili, cominciano a prendere polvere, invece i libri più belli, almeno quelli che mi sono rimasti più impressi nel corso della vita, sono quelli che lasciavano uno spazio alla fantasia del lettore, quindi la possibilità anche di continuarli quei libri. Anche i film che mi piacciono di più sono quelli che ti lasciano qualcosa una volta che esci dalla sala cinematografica, perché se tutto si conclude in quel momento è finita, è finita. Voi prendete i film e i libri della vostra vita, quelli proprio memorabili, vi accorgerete che in tutti manca sempre una risposta finale, in tutti. Quelli che diventano conclusivi dopo un po' si usurano, ci possono sembrare magari interessanti per riuscire a una risposta al momento. Ti faccio un esempio che è proprio molto lontano da me. No, ti dico La Sagra del Padrino, no? Il primo film finisce con una domanda perfetta. Caspita, non c'era, non era previsto neanche il seguito. Il secondo film idem, altro capolavoro. Il terzo film si conclude è una schifezza. Eh sì, confermo. È una schifezza. Perché? Ritorno al futuro. Primo film, eh? partono insieme a Doc, no? Che succede a noi nel futuro? No, non siete voi, sono i vostri figli. Bum, in sospeso. E caspita, poi ci hanno messo un bel po' Zemeckis a fare il secondo. Fa il secondo e come finisce il secondo? Con quello che consegna il plico sotto la pioggia. Doc, l'ha già previsto il terzo. Il terzo ha una conclusione. È una schifezza. È una schifezza. Lasciateci in sospeso. George Lucas, quando ha fatto Guerre Stellare, No, ti prego, per cortesia, non ti entrare che quello è doloroso per me. È molto doloroso per me. Capito, però... Lì addirittura hanno fatto il prequel, il sequel, il cod... Io ho perso il filo a un certo punto. Io a un certo punto mi sono rifiutata di guardarli, quindi sono assolutamente d'accordo con te. Ci lasci in sospeso, però, devo dire la verità, io ti faccio un'altra domanda sempre su La Casa delle Voci, scusami, su La Casa Senza Ricordi, ma anche La Casa delle Voci. C'è un altro elemento ricorrente che è Firenze e la Toscana. Come mai hai deciso di ambientarli a Firenze e comunque nella campagna toscana perché ci sono tutta una serie di eventi che succedono lì attorno e poi io farò un'accorata richiesta che è quella visto che siamo a Torino prima o poi se ci fai la grazia di ambientare questa città è perfetta, è meravigliosa, scricchiola già di suo, fa paura già senza bisogno di metterci anche senza solfiti aggiunti è perfetta. Come mai Firenze? Come mai la Toscana? Come mai... perché ero molto incazzato. La verità tutto questo nasce da un'incazzatura perché poi portando in giro i miei romanzi per il mondo ho scoperto che molti autori stranieri vengono ad ambientare le loro storie qui in Italia e lo fanno nelle nostre città d'arte. Alcuni hanno il pudore di non pubblicare le loro storie in Italia altri lo fanno devo dire anche molto abilmente penso a Dan Brown per esempio al Dan Brown di Angeli e Demoni però non hanno non hanno cognizione di che cosa sia l'Italia tant'è che Dan Brown una volta twittò la foto dell'altare della pace a Roma dicendo questo è il Parlamento italiano ma come bastava fare una ricerca su Wikipedia prego no la verità è che io sono arrabbiato con questi autori che pubblicano all'estero quindi depredano il nostro territorio noi abbiamo sempre l'imbarazzo di raccontare le belle città le grandi città preferiamo raccontare la provincia le periferie oppure le città astraendole fino a non renderle riconoscibili sì anche questo però ma perché ma perché raccontare la periferia di Roma quando abbiamo Roma che è stupenda il centro di Roma che è meraviglioso allora io che cosa ho fatto ho fatto un'operazione semplicissima ho tolto i turisti da Firenze come li toglierei realmente i turisti io i turisti li butterei fuori non li farei neanche entrare perché i turisti sono come i topi invadono sporcano consumano non lasciano niente preferisco i viaggiatori alla Hemingway cioè quelli che arrivano sanno già dove stanno andando conoscono il posto lo rispettano si integrano voi notate questa cosa quando c'è un turista per strada lo riconoscete subito ah quello è un turista non a caso no? è chiaro che è facile riconoscere un topo rispetto a un barboncino la stessa cosa vale per i turisti alcune città del mondo si stanno sbarazzando si vogliono sbarazzare dei turisti a Barcellona per esempio i locali non ne possono più voi andate a Venezia è ormai un parco giochi per turisti la stessa cosa la stessa cosa a Firenze la stessa cosa a Roma in questo periodo di pandemia io ho rivalutato il centro di Roma perché svuotato i turisti è meraviglioso è stupendo non ci sono più i venditori di cianfrusaglie quando io ho pensato Firenze senza turisti l'ho ritrovata Firenze con i suoi silenzi con la pioggia battente quando c'è la pioggia con il suono delle strade di Firenze voi pensate la piazza della signoria era stata concepita all'inizio con un pavimento incotto per esaltare il passo delle dame poi con la pavimentazione è stata cambiata ma anche l'attuale pavimentazione è una pavimentazione che deve esaltare il suono della piazza questo suono è sparito è sparito non c'è più quindi Firenze per me era un luogo magnifico straordinario di cui riappropriarmi in quanto italiano temevo un po' i fiorentini perché i fiorentini sono un po' come dire gelosi del loro temevo che respingessero questa mia visione di Firenze invece non è stato così e devo dire che anche all'estero l'hanno apprezzata Firenze vista in questo modo tra l'altro tu Firenze la leggi con un filtro Blade Runner perché praticamente nel 90% del tempo che fai camminare Pietro Gerber per strada viene inondato da acqua lui tra l'altro ha questa peculiarità di indossare un impermeabile di barberi ed è sempre su bellissimo senti il suono il suono del passo in queste vie deserte poi lui non dorme quindi a me piace molto devo dire la verità è una certa affezione per Pietro Gerber adesso Carrisi le darò del lei allora lei non mostra corpi non mostra sangue nessun elemento truculento eppure fa una paura del diavolo perché lei fa proprio una paura del diavolo io non sono impressionabile per niente ho riletto la casa delle voci ero incartata nel mio piumone e speravo veramente che non uscisse il mostro sotto il letto credevo di aver superato tutte queste cose da tempo ma che rapporto hai tu con la paura come abiti la paura come ci convivi ci vai per mano ci scherzi ci ridi o hai paura della paura allora io non sono coraggioso ma mi forzo ad essere coraggioso perché se fossi coraggioso non riuscirei a raccontare la paura ovviamente combattiamo la paura combattiamo la paura con la paura giusto la setta delle sette quanti siete della setta stasera oddio mio scusate la setta delle sette che su internet su instagram in particolare mi ha seguito ciao setta delle sette vi giuro che io gli voglio bene ma poi ve lo lascio tutto quanto io da casa dopo e combattiamo la paura con la paura perché è vero se conosci la paura riesci a capire anche qual è il limite della paura riesci a capire anche in che cosa può diventare ridicola la paura a volte perché poi la paura si muove con i meccanismi del comico hanno praticamente lo stesso criterio drammaturgico comico e tutta la parte la parte thriller si prende una cosa semplicissima una cosa familiare e la la si rivolta può diventare una cosa spaventosa io ricordo che all'inizio della pandemia proprio qualche un paio di settimane prima facendo le presentazioni dicevo ah c'è una cosa che vorrei raccontarvi eh me l'ha raccontata proprio un passeggero l'altro giorno era seduto accanto a me su un aereo di ritorno dalla Cina vedevo il pubblico faceva sta faccia come di ritorno dalla Cina hanno tutti paura perché pensavano che questa roba fosse confinata lì però si prende una roba semplice e la si trasforma in una cosa spaventosa e viceversa c'è un esempio che io cito sempre che è non c'è suono più dolce più bello nella vita della risata di un bambino tranne se la senti di notte sei solo in casa e non hai figli va bene carrizi ci ha raccontato il candidato carrizi ha raccontato efficacemente al suo pubblico questa questo aspetto io ho un'altra domanda che però questa è invece un po' più legata a trend editoriali secondo te perché sta avendo così tanto successo il thriller psicologico ma ormai sono anni che questo trend funziona molto bene non so il resto del mercato europeo o mondiale però in Italia mi sembra che ci sia è un'ottima scuola il pubblico è molto avvezzo a queste cose quindi non lo so è una domanda che faccio a quello che ha sovvertito il canone del thriller psicologico non lo dico io ma lo dicono i giornali lo dicono gli eminenti giornalisti di te secondo te perché ha tutto questo successo il thriller psicologico ci sono delle radici allora ti dico una cosa a me non piace proprio l'espressione thriller psicologico per me è respingente quando mi dicono ah guarda questo film è un meraviglioso thriller psicologico io scappo cioè non mi piace perché lo trovo già troppo vecchio tant'è che lo usiamo noi in Italia questa espressione la usiamo in Italia altrove si servono di altre espressioni io per esempio è vero c'è una componente psicologica forte per cui è una strada semplice quella di definire un romanzo tipo la casa senza ricordi un thriller psicologico io preferisco dire che invece il thriller si sta muovendo in un territorio diverso che è quello dei sentimenti quando io l'anno scorso ho scritto io sono l'abisso si muove è un thriller strano perché io all'inizio vi dico tutto questo è il cattivo questo è il buono questa è la vittima probabilmente invece di mettere un omicidio metto una buona azione al centro al centro di tutto cioè l'assassino non uccide ma salva e poi tutti i colpi di scena sono sui sentimenti non c'è un colpo di scena sui meccanismi non si tratta di scoprire chi cosa perché il lettore va tranquillamente avanti anche se non sa che cosa gli sto raccontando perché i colpi di scena si muovono sotto traccia e poi all'improvviso vengono fuori vengono fuori soprattutto nel finale allora il muoversi sui sentimenti e lo dico è un nuovo modo di affrontare il thriller non sono solo io a farlo tutto questo lo fanno delle bravissime autrici di thriller perché vi dico in questo particolare momento storico le donne che scrivono thriller sono molto ma molto brave e stanno superando gli uomini pensate alla ragazza del treno pensate a tutta una serie di romanzi che sono venuti fuori di autrici meravigliose perché si muovono toccando dei tasti diversi che sono i tasti del cuore allora la casa delle voci è una storia di sentimenti la casa senza ricordi è una storia di sentimenti il famigerato capitolo 55 che io sto sconsigliando di leggere si muove su quel territorio quando dico non leggete il capitolo 55 non lo leggete lasciate se non siete pronti perché per me è stato difficile inserire quel capitolo nel romanzo non era previsto nella prima stesura era nella mia testa io l'ho raccontato al mio editor Fabrizio Cocco che è la persona che mi segue che mi aiuta ormai da anni grandissimo professionista bravissimo grandissimo grandissimo Fabrizio io l'ho raccontato ho detto non so se metterlo perché è una storia che mi fa male scrivere che probabilmente può fare male anche al lettore se il lettore non ha gli strumenti per leggerla per cui se non avete gli strumenti passate direttamente all'epilogo che è un piccolo epilogo alla fine del romanzo che apre anche altre storie altre cose ma questo poi è molto relativo può finire serenamente al capitolo 54 se però decidete affrontarlo dovete sapere che quella non è una storia di paura è molto molto di più molto molto di più e molti fra quelli che l'hanno letta quella storia del capitolo 55 poi mi hanno scritto dicendo avevi ragione forse non dovevo leggerla forse erano tutti tentati pensavano che fosse una mia trovata per far leggere subito il libro invece no e io l'ho voluto inserire poi alla fine anche se quella storia può far male ma un po' Grazie a tutti